Il prossimo gruppo sono i campioni in carica dell'ultima edizione del Baletodo. Signori e signori, per voi, Agua Cupani! Il prossimo gruppo sono i campioni in carica dell'ultima edizione del Baletodo Il prossimo gruppo sono i campioni in carica del Baletodo Il prossimo gruppo sono i campioni in carica dell'ultima edizione del Baletodo Il prossimo gruppo sono i campioni in carica del Baletodo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Oh Mario, help me! Oh oh, mamma mia, let's go! Oh, mamma mia, let's go! Mamma mia, let's go! Mamma mia! Mamma mia! Grazie a tutti.